L'intera partita e conquista nei minuti di recupero Napoli e il triunfo 1-0 sobre Bari Capollo Annotando sobre il final del partito 1-0 sobre Bari, 2-0 presente Marquise, l'ex argentino 2-1 Triunfo del Perugia 2-1 de visitante sobre Fernanda Nakata, il japonese marcando il primero E poi Annoti e Melli Triunfo del Perugia sobre Tarnana, 2-1 Triunfo del Tagliari, 3-1 sobre Genoa Oliveira marcando il primero Vos del Embumà, desconto del frangioso Ravenna venció 2-1 a Verona Diana Velano di Vertarenno Santacorino chiederà l'andata del primo turno eliminatorio E estamos ora con... ...